ciao sono Michele Vese oggi parliamo di Active Directory in particolare ci occuperemo di creare quello che sarà il nostro dominio aziendale per farlo abbiamo bisogno di Windows Server 2019 nel nostro caso che appunto è l'ultimo sistema operativo server di casa Microsoft ed un client che andrà a simulare quella che l'azione di join a dominio quindi si unirà all'interno di questo gruppo per quanto riguarda invece la parte di infrastruttura virtuale che ospiterà questi sistemi nel mio caso utilizzerò VMware Workstation perché appunto è già installato su questa infrastruttura ma nel vostro caso potete utilizzare qualsiasi hypervisor abbiate a disposizione in realtà non c'è una grande differenza nell'amministrazione di questi tool di virtualizzazione faccio una premessa però l'obiettivo primario del lavorare all'interno di un contesto di rete è senza dubbio la condivisione delle risorse che possono essere quindi file cartelle o applicazioni e quello il nostro obiettivo primario quindi al livello applicativo quindi siamo sull'ultimo livello della nostra pila noi possiamo farlo in due modalità il primo scenario quello di default offerto anche dai sistemi operativi Microsoft che è il work group mentre l'altro più articolato è appunto il dominio in work group tutti gli elementi tutti i membri di questo gruppo sono pari quindi vuol dire che ognuno si amministra in maniera autonoma quella che è la gestione degli oggetti di security quindi vuol dire utenti password membership ma anche la gestione dei settaggi del sistema operativo quindi le configurazioni di quel sistema operativo vengono gestite a livello locale per quanto riguarda i domini invece esiste una gerarchia dove al vertice ci sono appunto i domain controller questi dove il controller condividono e amministrano un database che il database di active directory all'interno di questa database sono memorizzate tutte le informazioni quindi di security come dicevo prima utenti gruppi membership ma anche possibile amministrare a livello centralizzato la configurazione dei sistemi operativi di voi computer che fanno parte di quel dominio durante corsi e seminari che mi capita di tenere spesso mi chiedono se è meglio appunto lo scenario di world group o lo scenario di dominio diciamo che non esiste una risposta che sia valida in senso assoluto applicabile tra l'altro ad ogni scenario perché ogni contesto è differente sicuramente il dominio offre una serie di funzionalità in più rispetto a un world group ma dall'altro lato abbiamo anche bisogno di investimenti perché ci vuole un'infrastruttura per poter ospitare come il dominio active directory ci vogliono competenze per poterlo gestire chiaramente quindi il livello di complessità è molto più ampio rispetto a quello di world group il world group ha probabilmente altri vantaggi legati in alcuni casi a livello di sicurezza ad esempio in uno scenario active directory gli utenti appartenenti a quel dominio avrebbero una serie di vantaggi nell'accesso alle risorse condivise perché ci sono degli automatismi dei protocolli che si occupano di amministrare l'authentication in modo automatico quindi per l'utente trasparente il fatto di andare a inserire un utente password per accedere a una risorsa condivisa questo potrebbe essere un bene da un lato ma nel momento in cui noi abbiamo un server che ha delle informazioni insensibili e riservate sicuramente l'ultima cosa che vogliamo è la condivisione di quelle informazioni in modo non del tutto controllato e sotto l'amministrazione dei sistemi informativi quindi molti decidono di innalzare il livello di security logico isolando questa macchina e portandola in world group in modo tale che nessuno tranne che quegli utenti memorizzati all'interno del database locale di quella macchina di quel sistema operativo sia in grado di accedere a quelle informazioni questo scenario ibrido è spesso utilizzato oggi dalle organizzazioni quindi non è detto che il dominio sempre meglio rispetto al world ma appunto bisogna capire a quale contesto applicare uno scenario piuttosto che un altro adesso passiamo invece alla parte pratica andiamo a vedere come poter creare il nostro dominio aziendale quindi poter cominciare a offrire servizi di dominio nella nostra organizzazione ecco la nostra infrastruttura virtuale dove all'interno abbiamo appunto windows 2019 allora andiamo all'interno del tab tools dove possiamo vedere che effettivamente questa è una macchina appena installata non ha ruoli né feature aggiunti successivamente per quanto riguarda le informazioni vedete al nome macchina standard quello assegnato dal sistema operativo e come ip address a un servizio di hcp in questo caso il virtualizzatore che ha assegnato in automatico un range tra quelli validi noi andremo ad inserire un ip subnet mask gateway e dns a mano vedete assegno lo 010 come ip 24 subnet mask gateway 02 e dns mettiamo il dns pubblico di google giusto per consentire a questa macchina di andare su internet cambio il nome macchina quindi possiamo inserire un nome e una descrizione quindi mettiamo come descrizione dove il controller 01 e all'interno del tab change possiamo inserire il nome macchina in questo caso metterò dc meno 01 in questo caso è necessario un riavvio vedete la macchina tra l'altro è in workgroup come da default riavvio adesso taglierò chiaramente i tempi relativi alla fase di boot ci riloghiamo la macchina con la password locale e adesso potremo effettuare l'installazione dei servizi di dominio quindi la promozione la domain controller si effettua su due fasi la prima è quella di installare il ruolo di active directory domain services e la seconda è quella della promozione a domain controller quindi andiamo a selezionare quindi secondo nell'elenco domain services qui mi chiede di ereditare una serie di features per la gestione del dominio quindi lascio tutto di default faccio aggiungi e andiamo avanti qui c'è l'elenco delle feature possibili all'interno di un windows server 2019 andiamo avanti qua c'è una sponsorizzazione sui servizi cloud di active directory confermiamo il tutto mettiamo la spunta sul riavvio se necessario dopo l'installazione del ruolo e qui c'è la fase di installazione vera e propria delle varie funzionalità e del ruolo adesso taglio anche qui una serie di tempi morti al termine vedete c'è quell'hyperlink che ci suggerisce di installare il dominio quindi possiamo farlo da qui oppure se accidentalmente chiudiamo la finestra possiamo raggiungerlo dalla notifica bandierina promuovi questa macchina domain controller qua ci chiede poi se vogliamo creare un nuovo domain controller una foresta esistente nuovo dominio in una foresta esistente oppure una nuova foresta noi siamo in questo caso non abbiamo nulla quindi mettiamo nuova foresta il nome della nostra foresta quindi unicellulare a singolo dominio michelevese.corpo vado avanti qui livello di foresta di dominio vuol dire il livello di funzionalità che la nostra foresta e il nostro dominio devono avere mettiamo 2016 come suggerito dns assolutamente sì vuol dire che questa macchina poi gestirà il dns del dominio global catalog abilitato di default sul primo domain controller e mettiamo una password di restore mode in caso di recupero del sistema operativo del domain controller qui c'è un errore un errore di delega che avrete sempre nel momento in cui state creando una delega di primo livello quindi su un top level domain net bios michelevese automatico quindi senza il punto corpo qui sono i percorsi di default quindi il database architirector il log e la sysball questo è il recap di quello che abbiamo fatto e lì in basso dove c'è il bioscript possiamo eventualmente esportare uno script riutilizzabile poi in powershell per poter effettuare la stessa azione che abbiamo visto graficamente da powershell però ok qui adesso partirà la promozione della macchina e ci sarà un successivo riavvio bene a riavvio vedete che non è possibile accedere in modalità locale sui domain controller quindi se proviamo a mettere dc-01 backslash administrator con la password deciderà che l'utente non esiste quindi che tra l'altro la password non è corretta ecco questa è la risposta che avrete è obbligatorio quindi accedere con un utente di dominio che sia abilitato in questo caso il domain administrator sarà nome dominio backslash administrator con la password che abbiamo inserito come facciamo a capire che siamo su domain controller beh ci sono vari metodi quello più rudimentale potrebbe essere andare direttamente all'interno del percorso quindi sotto c-windows-ntds-ntds.dit che sarà poi il nostro database di Active Directory questa appunto è la location dove potremo eventualmente fare i vari backup o le gestioni delle manutenzioni sul database di Active Directory questo è il nostro database vedete 18 mega appena installato un'altra alternativa è quella di andare nella console Active Directory user and computers quella appunto standard per la gestione del dominio posizionarci sotto l'organizzazione unit domain controllers dove troveremo tutti i domain controller di questo dominio nel nostro caso dc-01 è l'unico domain controller e quindi lo troveremo lì in built-in troviamo tutti i gruppi già preesistenti prima della promozione al domain controller vedete server operators users quindi esistevano già mentre sotto users vediamo tutto ciò che viene creato con l'isolazione dei ruoli adesso ad esempio troviamo parte dell'administrator che è il nostro amministratore di dominio ma troviamo anche vedete gruppi come domain admins o dns admins sono dei gruppi di security che contengono già quindi permessi per poter amministrare quei determinati oggetti computers invece è un container che è quello di default che si popola nel momento in cui voi aggiungete una macchina a livello di join nel vostro dominio dns vediamo se tutto regolare allora il dns di dominio avrà creato una zona che si chiama appunto così come il vostro dominio michelevese.corps quindi questo dns sarà autorevole per risolvere tutti i nomi in riferimento alla zona michelevese.corps quindi tutti i pc che saranno uniti al dominio tutti i service record legati a questo dominio saranno gestiti da questa macchina quindi ad esempio qui ci sono tutta la parte legata ai service record come potrebbe essere Kerberos, Global Catalog e così via vediamo cosa succede a livello dns vedete noi avevamo inserito l'888 di google e qui è stato replicato sostituito con il 127.001 vuol dire che questa macchina diventa autorevole per quella zona ma l'888 che era quello originario è andato a finire sotto i forwarders nelle proprietà del dns vuol dire che qualsiasi richiesta vengono oltrata a questo dns che sarà al di fuori della zona di competenza michelevese.corps verrà poi inviata al dns pubblico o ai routines che sono quella serie di dns pubblici creiamo adesso un nuovo oggetto un nuovo utente nel dominio lo chiamo user01 inseriamo una password un utente standard quindi sarà un domain user rimuovo l'opzione di cambio password al prossimo logon e inserisco anche never expire per evitare scadenze dell'utente durante l'utilizzo chiaramente non è una best practice lo facciamo solamente in laboratori faccio la stessa cosa anche sull'account administrator provo a fare un reset password dello user01 vedete tasto destro reset password molto agevole un altro metodo per verificare appunto quali sono i domain controller è aprire la console site and services qui dentro dove appunto ci sono i siti che rappresentano quelle che potrebbero essere le location delle vostre aziende il dc01 è l'unico domain controller all'interno di questo sito tra l'altro questo sito è l'unico nella lista un'altra console di gestione è il nuovo centro amministrativo di active directory presente già dal 2012 in poi dove c'è la stessa struttura che troviamo nel user in computers solo che è dotata di alcune funzionalità aggiuntive una serie di hyperlink attributi diretti sugli oggetti del dominio possibilità di abilitare cestino e altre funzionalità pso diciamo che microsoft sta cercando di migrare tutto su questa nuova infrastruttura adesso torniamo sulla vecchia console quindi user in computer crea un gruppo lo chiamiamo gruppo 01 è un security group quindi vuol dire che eventualmente possiamo assegnargli delle deleghe di gestione quindi una security sulla gestione di alcune attività del dominio e successivamente all'interno inserisco lo user 1 lo posso fare sia dal gruppo all'interno del tab member oppure eventualmente faccio cancel vado direttamente sull'utente e member of quindi membro di gruppo l'azione produce lo stesso risultato chiaramente cambia solo la fonte da cui sono partito adesso prendiamo questo windows 10 ed effettuiamo una fase di join per poter effettuare un join chiaramente questo windows 10 deve essere collegato in rete con gli opportuni parametri quindi ad esempio se io vado nelle proprietà di questa macchina vedo un po' qual è la configurazione questa macchina è in workgroup cambio eventualmente il nome macchina da quello di default provo a verificare però a livello di rete come è la configurazione esistente quindi faccio un ipconfig per vedere l'ip subnet mask e gateway e un ipconfig all per vedere anche dns e altri parametri vedete che come dns ha lo 0,2 lo 0,2 in effetti non è corretto perché mi porterebbe a uscire dalla rete virtuale io ho bisogno di raggiungere il mio dominio infatti non lo pingo neanche perché non riesco a risolverlo come dns dovrei avere l'ip del dns di dominio quindi del domain controller dovrei quindi cambiare indirizzo ip dallo 0,2 allo 0,10 ok lascio tutto in dhcp tranne il dns primario punto 10 139 0,10 a questo punto il dominio sarà risolto attraverso delle query dns provo di nuovo a fare un ping per evitare di fallire poi nella fase di join quindi ping michelevese.corp perfetto a questo punto ho risposto a posso fare il join a dominio quindi nel momento in cui inserirò come dominio michelevese.corp il computer mi risponderà con una richiesta di authentication quindi inserisco il nuovo nome macchina posso farlo al volo senza dover riavviare in questo caso come authentication vedete Active Directory consente a qualsiasi utente anche un banale domeni users o authenticated user di effettuare la fase di join quindi proviamoci user01 e password vedete che il dominio mi accoglierà a braccia aperte nonostante sia un utente standard poi eventualmente questa opzione si può modificare nella security di Active Directory potete poi guardare il video sicurezza in Active Directory dove commentate effettivamente vedete che l'utente 01 non ha permessi particolari ok riavvio quindi il pc windows 10 a questo punto posso entrare sia a livello locale con l'account administrator locale oppure faccio altri utenti nome dominio backslash nome utente user01 quindi posso utilizzare quella risorsa di dominio creata per fare il logon nel dominio adesso vedete che ci sono una serie di accessi già di default automatici cioè vuol dire appartenendo al domain user posso fare determinate azioni ad esempio puntando direttamente ad Active Directory potrei visionare già le cartelle come sysvol, script, netlogon proviamoci quindi backslash, backslash nome dominio backslash vedete che ci sono già queste cartelle condivise di sistema la sysvol dove ci sono le gpo e eventuali script e nella netlogon anche qui accessibile da tutti gli utenti bene il nostro dominio adesso è pronto per poter lavorare all'interno di un'organizzazione quindi di offrire quelli che sono i servizi primari di Active Directory è chiaro che Active Directory offre tantissime altre funzionalità noi oggi abbiamo semplicemente creato il nostro dominio aziendale su un singolo domain controller e unito a questo dominio la macchina Windows 10 se il video ti è piaciuto e quindi hai trovato utile questa guida allora puoi cliccare nella descrizione in basso dove troverai tante altre risorse interessanti grazie a tutti